È stato un vero piacere partecipare a questo congresso, ho avuto l'opportunità di avere due comunicazioni, una sul poster che abbiamo prodotto come Istituto Santo Stefano, sede di Ascoli Piceno, riguardante l'attività riabilitativa nel recupero, il trattamento riabilitativo nel recupero della funzionalità dell'arto superiore nei pazienti con esiti di stroke, riguardante l'utilizzo della motorimagerie più di suoni ritmati e musicati, questo come prima possibilità, poi ho avuto la possibilità di parlare e di avere una relazione che era stata assegnata dal dottor Giustini riguardante le attività di collaborazione tra l'ISPRM e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa mi ha coinvolto abbastanza, 18 minuti di comunicazione in inglese, non era la prima volta, ma comunque è sempre un piacere portare un contributo a questo congresso.